la sacra rota. Che bello. Sei contenta? Sembra che oggi per far concorrenza al divorzio i preti siano più di manica larga. Piuttosto sfacciata, vero? Perché sarete sfacciata? Non fa che guardarti, che cosa ti troverà poi? A me? No, a me. Mia moglie è d'accordo. Non chiede nemmeno gli alimenti. Hai due occhi favolosi. Beh, se non la smette vado là e le do due scinfogne. E mangia. La bistecca al sangue la chiede. E mi portilo a mutarti. Mi sta affilando. Non da Gerardo. Guarda, tu sei proprio nato, io non c'ho una lira. Non c'è, carina, non c'è. Bene, bene, bene. Senti, ma io vicino a sei quanto, proprio non ci voglio fare. Per favore il conto. Va bene. Sei dolcissima stasera. Ragazzi, René sta puntando. La vittima è bionda e accompagnata. Quanto siete fessi. Se vi girate tutti, il marito se ne accorge. A Roma siamo sassà, amore particolare. Menage a troire. E magari il cornuto a guardare sta. René è fatta, eh? Vogliamo andare, tesoro? Si.